Come è stato un percorso importante in cui l'impegno dell'amministrazione straordinaria è stato di garantire la continuità di produttiva, occupazione e stabilimento e poi di cercare il nuovo investitore. Il nuovo investitore è stato trovato, il gruppo Sevital che è un grande gruppo algerino ma anche internazionale e adesso si tratta di mettere a punto fino in fondo il piano industriale, Sevital verrà al Ministero dello Sviluppo Economico il 9 aprile, in quella sede ci porterà il piano industriale con le scelte definitive. Noi dal nostro lato siamo molto impegnati insieme con la Regione, con il Comune, con l'autorità portuale a costruire le condizioni di contesto migliori per la ripresa del Sideruccio e di tutta l'area di Piombino. L'accordo di programma è stato importante, viene applicato molto bene, sono in corso dei miglioramenti sul porto, adesso saranno avviate le bonifiche, insomma tutti gli elementi che fanno ripresa complessiva dell'area, risanamento e ripresa complessiva dell'area.